Papà! Albertina! Sempre più persone assomigliano a Einstein perché hanno scoperto la spesa intelligente da Eurospin. Sono tutti prodotti Eurospin e li trovi solo qui. Cioè Eurospin sulla qualità ci mette la faccia. Se invece di una volta alla settimana ci vengo due volte, risparmio il doppio. E io ho scoperto questa offerta. Frollini con cacao e nocciole, 700 grammi, dolciando, a 1,19 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Grazie.